Non c'è alcun dubbio che la curva epidemica sia in crescita e i parametri registrati in Emilia-Romagna sono incrementali. È l'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini a spiegarlo durante la conferenza stampa dedicata all'andamento epidemiologico e alla campagna vaccinale in regione. In particolare l'incidenza siamo a 142 su 100.000 abitanti e l'R-T che ovviamente dà l'indice di progressione del virus superiore all'1, all'1,27. Un incremento di casi che fortunatamente non si riflette in modo rilevante sulla saturazione dei posti letto ospedalieri, ha proseguito Donini. In regione l'occupazione in terapia intensiva è del 7,1% come anche nei reparti Covid. A fronte di una situazione epidemiologica che evidenzia una circolazione del virus abbastanza veloce o comunque ampia non abbiamo i numeri dell'anno scorso grazie alla campagna di vaccinazione in atto. L'incremento dell'incidenza è caratterizzato dalla fascia d'età interessata, quella in età scolastica. I casi nella fascia da 6 a 10 anni sono passati da 248 per 100.000 bambini a poco meno di 400, mentre la fascia 11-13 anni è passata da 195 a 270, più bassi i dati nella fascia 0-5 anni che da 91 sono saliti a 145. Incrementi attribuiti sia a una vita sociale più intensa, sia all'assenza di copertura vaccinale che fanno sì che le fasce più giovani siano la popolazione più colpita. Per quanto riguarda la vaccinazione, ieri è stato raggiunto il 90% della copertura con la prima dose in regione e l'88,3% con la seconda, mentre la terza dose dovrebbe raggiungere il mezzo milione di dosi somministrate lunedì prossimo. L'assessore ha confermato che al momento la regione Emilia-Romagna rimane in zona bianca.